Musica Alla Galleria Males un nuovo incontro dell'Associazione La Città che Vogliamo, stavolta un discorso ad ampio raggio a 360 gradi con il comitato di quartiere del Rione Ferrovia. Sì Emilio abbiamo un po' aggiustato il tiro, siamo passati su un altro fronte, cioè dalla denuncia di ciò che non va, di una quotidianità praticamente invivibile, abbiamo affrontato con il comitato di quartiere del Rione Ferrovia un discorso di ampio respiro, nel senso che i rappresentanti ci hanno manifestato la volontà chiara di voler partecipare alla vita della città in termini propositivi, quindi non una mera denuncia, ma la voglia di contribuire alla crescita di Benevento con proposte, con interlocuzioni, con passaggi e valutazioni che i cittadini riescono a fare meglio degli amministratori in alcuni casi e questa sera lo abbiamo chiaramente verificato e da un punto di vista culturale e da un punto di vista operativo ma anche da un punto di vista imprenditoriale e commerciale e sono venute fuori delle proposte come abbiamo richiamato anche nel servizio che ha preceduto questa intervista. Il problema è sempre lo stesso, manca questa partecipazione, manca questo collante, manca l'anello mancante appunto che è l'assessorato alla partecipazione che dovrebbe fare da raccordo tra la città, quindi i comitati e l'amministrazione attiva per cercare di capire le istanze che vengono dalla città e vi parlo di istanze positive, costruttive, non di qualcosa che mira a distruggere e a criticare i fini a se stesso. Quindi io ringrazio il Comitato di Quartiere del Rione Ferrovia che questa sera veramente ha dato uno slancio ulteriore non solo a questa bella città ma anche all'attività della nostra associazione che in questo si è vista confortata nel proprio operato. Ecco, intanto noi continuiamo a fare da cerniera tra i cittadini e le istituzioni. Finalmente, meno male che ci siamo noi come associazione e la città che vogliamo perché manca un collante come diceva Vittoria, non c'è dialogo, non c'è partecipazione. Allora, siamo con il Comitato di Quartiere del Rione Ferrovia e chiedete solo un po' un confronto maggiore per le vostre problematiche ma anche un discorso ad ampio raggio per lo sviluppo della vostra zona. Sì, certo, chiaramente come Comitato non vogliamo denigrare nessuno, vogliamo solo essere propositivi nei confronti del Rione e della cittadinanza in generale. Ci aspettiamo, come è successo nel passato, che ci sia più collaborazione tra l'amministrazione e chiaramente i cittadini, in questo caso con il Comitato, tramite il Comitato. Ci aspettiamo cose diverse. Fino adesso purtroppo non è in qualche cosa la partecipazione a cui noi non abbiamo partecipato perché non invitati. Stiamo risolvendo i nostri problemini del Comitato tramite amicizie e cose varie. Però sarebbe opportuno a questo punto interloquire direttamente con l'amministrazione se ce ne dà la facoltà. Secondo lei manca la volontà di fare? Non lo so, né lo posso dire perché purtroppo sarà forse per mia debolezza o per mia inattitudine che non ci siamo mai incontrati con l'assessore alla partecipazione. Si colloquia, ma come fatto amicale con l'amministrazione in generale, però che abbia parlato con l'assessore alla partecipazione fino ad oggi, no. Grazie a tutti.